continuiamo a parlare di cinema perché tra i vari film che trovate nelle sale in questi giorni ci sarà anche questo poche sale 14 sale in tutta italia quindi va cercato di cui tre a roma se siete a roma se siete a roma e ve lo consigliamo proprio perché è un po complicato trovarlo ma stiamo parlando di anywhere anytime a questo punto io ho il trailer pronto è molto breve ma soprattutto regala anche le i suoni ciò che non possiamo raccontarvi oltre a far vedere i le immagini alla radio via ecco appunto prima o poi partirà siamo a torino non può più venire perché mi dispiace perché io rischio di perdere la multa e non voglio che vieni più devo dire che alla radio è una caccia al tesoro ma avete sentito già qualcosa già allora intanto vi rendete conto c'è ancora no vi rendete conto che si si tra si parla di qualcosa ambientato in italia ma con protagonisti non italiani un punto di vista un punto di vista diverso esterno ma estremamente presente il regista di questo film è anche anche lui iraniano come come il precedente si chiama milan tangshir e questo film racconta la storia di issa che è un immigrato clandestino quindi senza documenti a torino cerca di sopravvivere viene licenziato e qua si sente all'inizio dal suo datore di lavoro che non è italiano neanche lui lavora ai mercati generali esatto lavora ai mercati generali viene licenziato dal suo datore di lavoro licenziato cacciato perché poi non aveva nessun tipo di contratto di tutela proprio per questo motivo il suo datore di lavoro ha paura che la polizia possa fargli una multa e quindi lo manda via e lui deve cercare un altro lavoro cos'è che gli si pone davanti con maggiore facilità il lavoro di rider che è quello che vediamo diciamo in ogni città svolto proprio da persone che sembrano non avere anzi probabilmente non hanno nessun'altra possibilità e cosa serve per fare il rider tendenzialmente o un motorino o una bicicletta e una bicicletta nel suo caso e a un certo punto succedono delle cose proprio attorno a questa bicicletta anche cercare trovare questa bicicletta è uno dei motivi di issa uno dei motivi anche che muove la storia ma avete sentito lì per lì vi sembrerà un documentario non so io i primi minuti ho detto vabbè è un documentario in realtà è un film appunto di finzione nel senso che gli attori le persone recitano però è quel tipo di diciamo di recitazione molto realistica più simile a un ascolto di dialoghi nascosti no come se noi fossimo delle piccole mosche che sono in giro per torino e che captano dialoghi e situazioni se vi viene in mente ladri di biciclette di desica sì stiamo parlando di questo in cellulite celluloide nell'ultima puntata si è parlato di remake di ladri di biciclette ma sì la struttura anche alcuni tratti della storia sono quelli come però per ladri di biciclette come anche nella per la bambina segreta il contesto il lo sfondo anzi l'ambientazione in cui si muove la storia dentro cui si muove la storia è veramente la cosa cruciale in ladri di biciclette le persone che vedevamo in scena erano persone della strada e appunto neuralismo italia 1948 quindi eravamo proprio con le macerie fresche anzi si stavano nello sfondo si tiravano su si sistemavano le strade stessa cosa anywhere in time siamo proprio in quel momento è successo già qualcosa e quel qualcosa è una crisi mondiale gestita però così cioè che appunto io ho fatto quella premessa quella correzione i mercati generali non sono il teatro dove lavora e sa perché perché i mercati generali cito non si può andare hanno messo la rete non puoi passare soltanto attraverso il l'ingresso principale quindi controllato quindi devi presentare il documento quindi lui sta lavorando in un in un mercato rionale libero mettiamola così quando perde quel lavoro perde tutto diciamo che è interessante anche come viene sottolineato anche in cartella stampa un regista elaniano che racconta l'italia attraverso gli occhi di due senegalesi esatto quindi insomma e la racconta forse anche meglio rispetto a quei famosi film sulla la medio borghesia italiana o non lo so su quei film un po piacioni sulle coppie che cercavo di trovare il loro futuro cioè non che quello non sia vero però questa parte qui in effetti è quella che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni ed è estremamente l'italia di adesso sì è quella che abbiamo sotto gli occhi che teniamo sempre a voltiamo la testa oppure come tra l'altro si vede da questo film l'italia anzi l'italianità la il vanto dei nostri politici che tra l'altro vabbè lasciamo stare beh si potrebbe dire che questa è la forza nemica in base quella che invade infatti invade che il patrio vabbè vabbè lasciamolo nell'angolino che merita anywhere anytime racconta quella a difesa dei confini ma vattene vabbè a vederli confini anywhere anytime racconta proprio con il quel titolo è esattamente il servizio di spedizione che permette a appunto gli italiani o comunque gli ambienti coloro che possono permettersi di avere il pranzo a casa anywhere ovunque ovunque in qualsiasi momento per questo devi avere una forza lavoro pari allo schiavismo esatto e tra l'altro il regista di questo film ha fatto uno studio proprio sui rider ha passato tutta l'estate il 2018 con malik che è un senegalese di vent'anni che fa il rider e lo ha seguito in tutte le consegne è stato con lui praticamente tutto il tempo ha partecipato a manifestazioni sui diritti dei rider ha visitato menze dormitori centri di accoglienza dice più del 90 per cento di quello che ho raccontato nel film l'ho visto o l'ho conosciuto attraverso testimonianze raccolte direi che è abbastanza evidente tutto questo e gli attori a proposito sono tutti non professionisti come sono stati scelti attraverso uno street casting incontrando varie persone associazioni che si occupano di migranti e centri di accoglienza lo hanno aiutato ovviamente nella scelta la scelta del protagonista è caduta su Ibrahima Sambu dopo una conversazione e dopo che l'ha guardato negli occhi e in effetti questo ragazzo ha una grande espressività degli occhi particolarmente eh espressivi e anche senza parlare perché è un film in cui non è che si parli tantissimo anche perché giustamente ci stanno tra le lingue diverse almeno per cui eh immaginatevi il bagaglio diciamo linguistico che ha tra l'altro anche enorme rispetto a quello che potrei avere io in Senegal eh comunque ehm parlano ci sono queste frasi diciamo molto semplici per farsi comprendere però molto passa attraverso i gesti gli occhi le azioni di questi personaggi di questi protagonisti. Ciò che fa, ciò che non fa, quanto va veloce sulla bicicletta, quanto corre veloce sui piedi. Soprattutto quanto eh diciamo tempo anche per riflettere per se stesso perché voi eh cioè quello che ho pensato io guardando questo film è stato quanti quante ore questa persona deve girare per questa città non sapendo che fare cioè io in una situazione del genere eh partendo da un da una vita invece piena di cose da fare e di ogni cinque minuti occupati cosa farei avendo tutto quel tempo ma non in un senso positivo cioè io mi sentirei persa se non avessi niente da fare se non avessi un appiglio un riferimento uno scopo è questa anche la sensazione cioè non dobbiamo pensare solo che sia un discorso legato alla sopravvivenza sicuramente lo è eh quindi al ai soldi ma anche proprio alla al posto nel mondo cioè a fare una cosa avere un inizio una fine di una giornata sapere dove andare non passare le ore a vagare cercando di ecco senza nessun tipo di eh punto di riferimento cercando di e mentre il le persone intorno o ti ignorano o ti insultano o ti eh o te fregano c'è anche questo o cercano veramente di eh mangiarti perché appunto c'è la legge proprio della della strada il anche questo film come il precedente il contesto è importante ma soprattutto come in ladri di biciclette questi film raccontano la è una sono fotografie della adesso ladri di biciclette nel 48 anywhere in any time nel 2024 raccontano l'italia di adesso ci piacciamo noi italiani visti eh attraverso questi film questi racconti cosa potremmo eh sistemare cosa dobbiamo assolutamente fare appunto la politica è ovunque certo ed è esattamente quello che manca in questo film faccio un riferimento visto che siamo in radio alla musica ehm il regista di questo film era musicista in iran faceva parte di un gruppo progressi in metal esatto e mh a un certo punto non ha avuto più libertà di neanche di fare appunto il musicista nel 2011 è venuto in italia per continuare a fare musica e studiare cinema dal punto di vista musicale ha fatto delle scelte precise per questo film l'abbiamo sentito un po' anche nel nel trailer e mh ha usato il jazz eh afro cubano di senegal e etiopia degli anni settanta eh che da una parte è familiare per l'orecchio europeo ma dall'altra una sonorità africana che crea un senso di alienazione e questa è una cosa molto vera nel senso che tu comunque guardi le scene senti però una musica che non che ti stona rispetto a quello che è il contesto del ragazzo in quel momento e hai un po' c'è un po' percepisci il suo senso di disagio rispetto a quello che lo circonda è molto vera questa cosa l'ho notata ma l'ho notata di più adesso che ovviamente me l'hanno spiegata giustamente il film è pure qui contenuto nel nel minutaggio quindi non vi deve più di tanto spaventare sono 82 minuti certo di pure lì non stiamo parlando di un film della marvel neanche di della dc comics ed è un pregio è una qualità direbbe qualcuno grazie ai potenti mezzi del vvv ma soprattutto alla pingue archivio di radio elettrica ho trovato un brano degli ahora brano del gruppo che appunto nel 2000 quindi 24 anni fa mila tankshir in cui suonava mila tankshir mila tankshir è il regista di anywhere anytime lo trovate cercando bene nella programmazione italiana al cinema ve lo consigliamo ma intanto ci sentiamo gli ahora chissà se pronuncerò bene con di deported lo sentiamo a scatola chiusa quattro minuti e 42 secondi di progressive metal iraniano chi è allora chi è allora chi è allora chi è allora